ben trovati una nuova edizione di senior news vediamo i titoli covi della stretta del governo sotto forma del super green pass ipercolesterolemia l'incidenza nella popolazione anziana osseoporosi ogni anno in italia 500 mila fratture da fragilità black friday attenzione ai falsi sconti e alle truffe online la stretta per i non vaccinati arriva anche in italia sotto la forma del super green pass in pratica dal 6 dicembre al 15 gennaio chi non è immunizzato o guarito anche in zona bianca non potrà più accedere ai luoghi pubblici dai ristoranti ai cinema fino a stadi feste discoteche cerimonie pubbliche mentre soltanto per andare al lavoro per notare in albergo sarà ancora garantita la possibilità di ottenere il certificato verde tramite tampone che servirà anche per prendere i mezzi pubblici così ha deciso il governo che con il decreto approvato ieri introduce anche l'obbligo del vaccino per personale scolastico e forze dell'ordine e terza dose per il personale sanitario l'ipercolesterolemia è una condizione in cui i valori di colesterolo totale nel sangue sono troppo elevati pur non comportando sintomi evidenti i rischi del colesterolo alto sono principalmente quelli di sviluppare patologie cardiovascolari per accertare i valori del colesterolo è sufficiente effettuare un semplice esame del sangue sentiamo in italia secondo i dati dell'istituto superiore di sanità nella popolazione anziana il 24 per cento degli uomini e il 39 per cento delle donne soffrono di ipercolesterolemia mentre il 36 per cento degli uomini e il 38 delle donne sono borderline si parla di ipercolesterolemia quando il colesterolo totale ldl più hdl è troppo alto va detto però che alti livelli di colesterolo non producono sintomi diretti molte persone infatti ignorano di soffrire di ipercolesterolemia anche se rischiano di sviluppare eventi cardiovascolari come l'infarto soprattutto in presenza di altre malattie il colesterolo deve quindi essere tenuto costantemente sotto controllo anche perché può essere facilmente misurato con un semplice esame del sangue le fratture da fragilità non sono un'evenienza così rara se si soffre di osteoporosi ogni anno in italia se ne stimano oltre 500 mila che poi provocano difficoltà nella vita quotidiana perdita di autonomia e perfino un incremento della mortalità sentiamo si chiamano appunto fratture da fragilità appunto perché si verificano per un trauma che non dovrebbe dare una frattura un trauma banale o anche in assenza di trauma anche solo col peso del nostro corpo certe volte le ossa osteoporotico si rompono e in effetti va ricordato anche che la frattura può anche essere l'unica manifestazione della patologia e quindi e quindi arriviamo spesso tardi perché appunto quando si presenta la frattura vuol dire che siamo già nella condizione di di osteoporosi avanzata e per questo che viene definito una ladra silente l'osteoporosi non può dare nessun segno per anni e poi e poi c'è una cascata magari di frattura da fragilità domani è il black friday il gran giorno degli sconti tradizione importata dagli stati uniti ormai da qualche anno ha preso piede anche nel nostro paese tanto è che secondo le stime delle associazioni dei consumatori il 60 per cento degli italiani è intenzionato a fare almeno un acquisto ma soprattutto online occhio alle truffe ai falsi sconti prima di tutto accertarsi che il sito sia sicuro pagare solo tramite paypal o prepagate e confrontare il prezzo dei prodotti anche su altri siti per accertarsi che il prezzo di base non sia gonfiato infine vi ricordiamo che per gli acquisti online c'è un massimo di 14 giorni per restituire la merce senior news termina qui prima di salutarvi vi ricordiamo pronto senior salute il servizio di senior italia federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il cup una visita specialistica un esame diagnostico un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del medico chiamando il numero 06 6227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente sul sito www.senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni arrivederci a domani grazie a tutti